Kim Kardashian, ragazzi, qua ci vuole, aspetta, aspetta, aspetta Io come posso non bantarmi? Quindi aspetta un attimo Guarda qua, va Guarda qua, va Soffritemi BOOM Foto con Kim, ragazzi, solo noi, me la metto subito su Instagram, voglio vedere che dice Lamar Voglio vedere Vieni, vieni, Kim, vieni Oh, perfetto ragazzi, eccoci qua, siamo in questo nuovo video della Molde Vita Reale In questo video si torna a lavoro, finalmente E dobbiamo consegnare due Ferrari per una persona veramente importante, veramente famosa Stiamo parlando di Kim Kardashian Un'attrice, una modella, chi più ne ha più ne metta, ragazzi, veramente c'ha un sacco di soldi Ed è quelli, sono quelli che interessano a noi Infatti ci ha richiesto due Ferrari Una Ferrari SP2 Monza e una Ferrari FXXK Evo Quindi due pezzi unici, costosi, ragazzi Quindi vediamo di fare questa consegna veramente al bacio, nel senso veramente fatta bene Infatti ho già preparato la Jeep, il carrellino Dobbiamo solamente fare le consegne come abbiamo sempre fatto e ci prendiamo i soldi Quindi, quell'è X7 Oè, fatemi passare Ok Vai Semaforo rosso, ovviamente Uh Vabbè, aspettiamo, ragazzi, tanto muovo diventa verde Facciamo una bella accelerata da qui Eccolo E allora Verde pure qua Perfetto Mamma mia, ragazzi Eravamo di quarta, no? Seconda, terza Comunque a 150 Dai, fammi passare che devo girare qua io, ok? Guarda come si inserisce Guarda come viaggia Un sub pesante, ma viaggia Uno, due Facciamo attenzione Che qua non voglio essere fermato Non voglio essere multato, ragazzi Che poi Diciamo sto mantenendo il record, no? Diciamo Avrò preso massimo una multa Quindi cerchiamo un attimo di mantenere Questo record Non voglio avere troppe multe Allora, mettiamo la macchina qua Perfetto E intanto Vi faccio vedere un attimo la Jeep Vedete, ragazzi Guardate quanto è cattiva Jeep Wrangler Bellissima Bella massiccia Bella aggressiva Con questi ganci C'è anche comunque la corda, ragazzi Nel caso comunque se c'è qualcosa Che qualcuno rimane a piedi Tu prendi Lo aiuti Attacchi la corda Lo traini Tante, 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 tante cose E infatti Sarà questa Jeep A trainare comunque il carrello Con sopra la Ferrari Quindi veramente bella, ragazzi Guardate com'è fatta Ammortizzatori Che si vedono La ruota di scorta Veramente top Vediamo un attimo qua No, non salire Eh, vedete gli interni È veramente bella Top, top, top Andiamo dentro E vediamo pure questi Ferrari Come sono fatte Mia Ah, eccola qua Eccolo i Ferrari Wey mia Tutto a posto Ti amo, eh Come sempre Adesso però si lavora C'è Kim Kardashian Non ti preoccupare Non essere gelosa di Kim Tanto Kim non mi vuole Capito? È già sicura questa cosa Di certo non viene a cercare a me Quindi Tranquilla su questo Comunque ragazzi Eccolo i quali Ferrari Guardate che pezzi Che abbiamo stamattina Non so cosa deve fare Quella con queste macchine qua Ma non facciamoci domande L'importante che ci dà i soldi Vedete Ferrari FXXK Bella, bella potente Ragazzi E poi qua abbiamo La Ferrari SP2 Monza Mansori Mansori Sì Veramente top Ragazzi Quindi iniziamo Uno alla volta Guardate qua Sedili bicolori Rosso e uno nero Mi piace Mi piace Questo accostamento Mi piace Senti lo so che le stai guardando Però Fammi un attimo uscire Per favore Dai Sentiamo il sound Uuuuh Oddio Uuuuh Ragazzi Ma cos'è qua Accendi Mamma mia Ragazzi Mamma mia Aspetta Attento Attento Che ti schiacci i piedi Usciamola qua Mia Inizia con questa Vai ragazzi Usciamo Facciamoci un giretto Diciamo qua Su questa strada Prima di andare lì Guarda qua Ma che spettacolo Di macchina è Che spettacolo Di macchina è Wow Ragazzi Pronti Ci facciamo un giro Giusto Tranquillo Andiamo di qua Guarda che spinta Ma senti che melodia Questo motore Ragazzi E' proprio Un sound Cattivissimo Questo eh Proviamo Vai Oh Oddio Attento Ma quanto va Questa Ferrari Ragazzi Sembra un go kart Per come si guida Sembra un go kart per come si guida Ok perfetto ragazzi Qua sembra essere tutto pronto La Ferrari è ben fissata Andiamo subito nella Jeep Attacchiamo il carrellino Eccola qua Oh ragazzi Che sound Chiui la porta però Ok Quindi mettiamo il punto ragazzi Se non erro La casa di Kim Sta proprio qua Ovviamente ragazzi Zona proprio Residenziale Vai in Bull Deals Adesso ci facciamo Un po' di guida E poi facciamo Un piccolo taglio Se no qua Ci mettiamo una vita Ok vai Andiamo Quanto tira Ste marce Eh ragazzi Quanto le tira Uh La cambio No Mamma mia Fa spaventare Sta macchina Ma che verde Dai È un camion Ragazzi È un camion Questa Jeep Vai io qua posso girare Perfetto Perfetto Attendiamo Ok Eccoci qua ragazzi Verde Perfetto Ci facciamo vedere Ci facciamo vedere Dalla polizia Ragazzi Possiamo poter evitare Di fermarci Ok Oh Oh stiamo Oh stiamo rifiutando Ok ci siamo quasi Oh eccola Oh eccola Eh ma qua dove lo metto Sto coso Aspettate Eh mi dispiace Ehi salve Ehi salve Salve Signora Kardashian Guarda ragazzi Quanto è fatta bene Se l'andate a cercare È proprio così Comunque Signora Tutto a posto Eh Tutto a posto Questa qua è la prima macchina Una Ferrari S&P2 Monza Come lei Mi ha richiesto No Quindi rossa Con Diciamo questa Libra nera Sedile rosso E l'altro comunque Del guidatore nero Facciamo una cosa Facciamo una cosa Se Lei può venire anche con me Venga pure lei Che almeno comunque Le faccio vedere Pure la scuderia Parliamo un po' E intanto poi La riaccompagno qua Bene Non si preoccupi Vieni Kim Vieni Vieni Kim Kim Kardashian Ragazzi E qua ci vuole Aspetta 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 Io come posso Non bantarmi Quindi aspetta un attimo Guarda qua Guarda qua Soffritemi Boom Foto con Kim Ragazzi Solo noi Me le metto subito Su Instagram Voglio vedere Che dice la mar Voglio vedere Vieni 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 Kim Vieni Se vola Kim Ora ti porto la scuderia Ua ragazzi Ma che onore è Kim Kardashian Nella mia macchina Eh Ok vai Mo se vola Kim Beh che mi racconti Comunque complimenti Per queste macchine Veramente Top Al bacio Pezzi unici Lei sa cosa scegliere Veramente le devo fare Veramente le devo fare i complimenti Ferrari SP2 Ha sicuramente copiato Ibraimovic Ce l'ha lui E la Ferrari FXX FXXK Di Sebastian Vettel Grande Grande Kim Kardashian Ma che deve fare con queste macchine qua Qualche foto Qualche shooting Ma Comunque la seguo su Instagram Io ti seguo su Instagram Quindi Come dico sempre a tutti Se mi volete taggare Comunque Io Comunque Non mi offendo Capito Taggatemi Dite Scuderia Ferrari Di Clinton Franklin Di Los Santos Se buona Capito 5 stelle Proprio Capito Quindi se la vuoi fare Oppure tu Mi fai un favore Perché capito Quanto mi fai conoscere dopo Taggami su Instagram E non ti preoccupare Comunque ragazzi Dobbiamo essere pure così Degli abili venditori Proprio Dobbiamo avere il carisma giusto Capito Guarda qua Kim Guarda come funziona Guarda Non ci ferma nessuno A noi Wow Ah vai con sta macchina Wow Senti come apre Senti come Come spinge questa macchina Kim Aspè aspè Kim Aspè Che mo prendo la Ferrari One moment One moment Please Mea Oh vedi che sta Kim Di là eh Kim E che me E che me Ci facciamo prima un giro Dai Oh ma che c'è Anche la telecamera Fammi vedere Wow da qua ragazzi Che pezzo C'è questo è proprio interessante Eh si alza pure lo spoiler Vediamo Sì Uh uh Non volevo farlo Kim Veramente Non volevo farlo Kim Eh ragazzi Ma di cosa vogliamo parlare qua Questa spinge proprio anche più di quella Poi c'ha dei freni da paura Uh too close Uh too close Eh facciamoci vedere un po' qua Kim Dai Uè che stiamo nel circuito Uh Che sta facendo Oh la police Mannaggia Miseria Sti carabinieri Aspetta Kim Ah non mi dire niente E quando mi ricapita sto momento Ci facciamo un giro un po' più lungo Però quando mi ricapita sto momento Capito Kim Guarda qua Guarda ragazzi È spaziale questa macchina Ci stiamo divertendo veramente un mondo Siamo fatti un bel giretto con questa No ho sbagliato strada Ok Vai ragazzi vai Facciamoci pure questa consegna Lasciamo Kim là E abbiamo fatto il nostro lavoro Poi ci pagherà come sempre ragazzi Che ci manda il bonifico Adesso la lasciamo qua Anzi vabbè Facciamolo qua dai Almeno non roviniamo il prato di questi Mettiamolo qui Ok Aspetta Kim Che me la scendo la macchina Me lo devo fare Mi dispiace Guarda là Perfetto ragazzi Eccoci qua all'interno Le due Ferrari consegnate Tutto a posto per Kim Si è divertita pure con noi ragazzi E nulla Possiamo finire quel video Poi nel prossimo video ragazzi Vediamo un po' cosa fare Qua nella vita reale Vediamo di far accadere qualcosa Sicuramente Non può essere sempre tutto bello ragazzi Quindi sicuramente Faremo succedere qualcosa Qualche disavventura Qualche cosa di strano Sicuramente succederà E nulla ragazzi Con questo è tutto E noi ci sentiamo al prossimo video Bella